Sono Andrea Liuzzi, vengo da Taranto e faccio parte della Liuzzi Brothers Thai Gym. Mi alleno da svarati anni per l'oltrecorpo Muay Thai Lecce e combatto per loro, per i fratelli siciliani. Faccio parte del reality show Fight Clubbing dalla parte del Muay Thai. Allora ragazzi, visto che questa quarantena ci sta portando via del tempo e siamo, diciamo, torriotti costretti a rimanere a casa, vedremo di poterci allenare usando tre sattori di fortuna. Se avete pesetti da un chilo, un chilo e mezzo, da due chili, da tre chili, va bene comunque, se no possiamo usare delle bottilette d'acqua o farlo comunque a corpo libero, va bene? Come funziona? Faremo i primi tre round. I primi tre round è un warm up, cioè un'attivazione muscolare o comunque sia un potenziamento generale, va bene? Per il primo round è così composto. A terra, posizione di megamenti braccia, venti push up, scendo, tocco il petto a terra, risalgo le mani all'altezza dei deltoidi, non più avanti, non più dietro. Uno, due, tre, venti. Da questa posizione attacco direttamente i mountain climbers, quindi porto il ginocchio al petto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Ok? Venti. Mi rialzo, apertura spalle, schiena dretta, scendo sotto al parallelo. Venti air squat, estendo l'anca. Uno, due, venti. Venti, venti e venti. Primo round. Tutto questo per tre round. Tra un round e l'altro useremo un minuto di recupero, va bene? Per poi passare ai cinque round di vuoto usando una metodologia. Allora, per il primo round faremo uno più uno. Per uno più uno si intende o arma lunga o arma corta. O arma corta o arma lunga. Diciamo che i corpi dipendono comunque dal vostro bagaglio, ok? Di quello che sapete. Quindi, posizione di guardia. Uno più uno. E così via. Uno più uno per il primo round. Secondo round, due più uno. Siamo andando rama due più uno. Terzo round. Tre più due. Tre più due. Terzo round. Quarto round. Faremo un allenamento di schivata. Quindi, posizione di guardia. Due colpi lunghi. Schivo e rientro. Tre colpi lunghi. Schivo e rientro. Quando schivo? Schivo. Dalla parte dell'ultimo colpo tirato. Va bene? Quindi, scho scho scho. Schivo. Rientro. Scho scho scho. Schivo. Rientro. Scho scho scho. Rientro. Posso entrare con un montante, con un gancio, con un diretto, con un gomino. Dipende dal vostro bagaglio. Quinto round. Vuoto. Normale. Usando anche i blocchi. O schivate. O quello che sapete. Non mi importa che più uno, due più due, tre più due. Vuoto. Normali. Con tutto quello che sapete fare. Scho scho. Bloc. Scho scho scho. Scho scho. 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 Hop. Hop. Bloc. Bloc. Questo è il quinto round. Va bene? Signori, è stato un piacere. Spero di vedervi presto. E... Da Wally Cup a tutti. No. No. No.